Quante volte al giorno o nel corso della settimana ricevi telefonate indesiderate? Numeri sconosciuti che continuando a far squillare lo smartphone o il telefono fisso ti costringono a riagganciare perché infastidito dagli insistenti messaggi pubblicitari. Finalmente con il nuovo registro pubblico delle opposizioni si potrà invertire questa tendenza. Infatti dopo 4 anni e 83 giorni diventa operativa la norma che permette di cancellare i vecchi consensi dati in passato e di scrivere i cellulari al nuovo registro delle opposizioni che disciplina il trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili degli utenti e dei corrispondenti indirizzi postali. La lunga battaglia che abbiamo finora condotto per ottenere questo risultato dalla petizione online con migliaia di firme raccolte alle audizioni parlamentari non solo non è ancora finita ma è solo all'inizio. Queste le parole di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori che continua facendo sapere che intanto si vigilerà sul buon funzionamento del registro e che vanno previsti dal legislatore indennizi automatici per i consumatori che ricevono telefonate moleste nonostante siano iscritti al nuovo registro. Solo così ci sarà un incentivo a segnalare i call center rispettosi delle regole e il quadro sanzionatorio favorirà comportamenti virtuosi. Il nuovo registro pubblico delle opposizioni permette ai cittadini di opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali, fisse e mobili e di porre un freno alle telefonate commerciali selvagge da parte di call center e operatori. A partire da ieri è possibile iscrivere le proprie numerazioni al nuovo registro tramite diverse modalità, web, numero verde, mail e raccomandata, mentre gli operatori di telemarketing saranno tenuti a verificare le liste dei potenziali contatti tramite una serie di servizi disponibili sul sito del registro stesso. Pesanti le sanzioni in caso di abusi e violazioni, ricorda il Kodakons. Gli operatori rischiano infatti multe fino a 20 milioni di euro. Per le imprese sono previste sanzioni fino al 4% del fatturato totale annuo.